Fettine di manzo alla contadina è quanto prepareremo insieme adesso. È un piatto molto facile, gustoso e va molto bene anche nella stagione che stiamo vivendo. Le fettine di manzo dovranno essere per 4 persone 8. Io vi consiglio di prendere il magatello, ve lo fate tagliare abbastanza sottile dal macellaio, eccolo qua. Se invece prendete delle fettine un po' più grandi, una sola per commensale. 4 o 8, come vi ho detto, a secondo della loro misura. Dovremmo poi mettere del pomodoro e il pomodoro, eccolo qui, sono pomodori perina freschi, sbucciati e tagliati a pezzettini. Eccolo. Il condimento dell'olio d'oliva. Poi ci vuole del pepe e qui vedete c'è questo trick simpaticissimo, questo macinapepe ricaricabile. Dentro c'è pepe di tutti i tipi, guardate c'è rosso, verde, bianco e nero. Maciniamo il pepe al momento con trick, è facilissimo, è simpatico. E poi dunque alla contadina, alla contadina perché io penso che questo piatto che è antichissimo prevedesse l'utilizzo di tante buone erbettine particolari. E io le ho, le ho tutte insieme perché questa sera adopero e vi parlo un po' di arriosto, ma arriosto quello per carni in umido. L'arriosto per carni in umido è nella bustina, quella che siete abituati a vedere, quella della quale vi ho parlato la settimana scorsa, la classica per arrosti, ma questa qui per carni in umido è perfetta per brasati, pizzaiole, anche non lo so, anche io credo che vada benissimo anche per un sugo importante, anzi deve essere utilizzato per un sugo importante, il classico brasato alla piemontese. Dentro qui c'è tutto, c'è la carota, il sedano, la cipolla, c'è la salvia, il rosmarino, c'è la paprika, c'è anche il sale. Quello che io voglio ricordarvi, c'è anche la salvia, credo di avervelo detto, già, la cipolla. Quello che voglio ricordarvi è che in arriosto tutte le erbe che sono contenute sono naturali, sono raccolte nel punto giusto della loro maturazione, nella zona giusta della loro maturazione e qui non ci sono né additivi né conservanti. Allora ricordate il secondo arriosto che vi presento che è quello particolari per carni in umido. Allora prepariamo subito subito le nostre fettine. La padella deve essere larga perché dobbiamo mettere, dopo che abbiamo fatto rosolare solo un attimino un pochino d'olio, dobbiamo mettere vicine tutte le otto fettine di carne in modo che abbiano spazio e non si accavallino. Poi vi mostro perché. Allora le mettiamo così e cominciamo subito col mettere, col macinare su di loro un pochino di pepe, così direttamente. Poi un poco di ariosto per carni in umido. Allora mi sono dimenticata prima nell'elencarvi le erbettine che contiene, di dirvi che c'è anche il chiodo di garofano, la cannella. Insomma tutte le cosine, un profumo come se facessimo un brasato importante. Adesso rivoltiamo le fettine e facciamo la stessa operazione anche dall'altra parte. Pepe e ariosto. Cuociamo e poi per ultimo mettiamo, ma lo facciamo insieme, il pomodoro. Una bella cucchiaiata di pomodoro, il pomodoro vi ricordo è stato sbucciato e tagliato a dadini. Allora una cucchiaiata va messa nel centro della fettina di carne, così. Io adesso metto anche le altre, poi lasciamo soltanto che il pomodoro appassisca perché non dovrà cuocere proprio molto. Anzi vi consiglio di coprire la padella in modo che il vapore di tutto quanto cuocendo faccia appassire un pochino il pomodoro. E poi serviamo, vedete che non ho messo sale perché tutte le bustine di ariosto di qualsiasi tipo hanno come componente anche il sale. Allora pochi minuti a padella coperta e poi prepariamo un bel piatto da portata. Ma che profumo le tuberose! Ah scusate mi sono distratta, le tuberose sono i miei fiori preferiti. Le ho qui così vicino hanno inondato lo studio e non solo il profumo delle tuberose. Se sentiste il profumo di questo piatto, anzi volevo distrarmi perché se no mi mangiavo subito una di queste fettine di manzo alla contadina che ho preparato insieme a voi questa sera. Ecco avete visto la facilità di questo piatto, è veramente un'ideina perché invece della solita fettina che so che non è più tanto gradito, ma che barba la solita fettina, avete visto con la fettina di manzo, con un pochino di pomodoro crudo e una bustina di ariosto per carni in umido, voi portate in tavola una cosa deliziosa che avrà grande successo. Adesso vi lascio perché non ho molto tempo, volevo solo annunciarvi il piatto che vi preparerò domani sera. Dunque ho scoperto, poi domani sera magari mi dimenticherò e non ve lo dirò, però ve lo dico adesso. Dunque domani sera vi preparo una torta che si chiama, mi pare clafotis o clafotis, o non lo so come si pronuncia, cercherò durante la notte di saperne di più. Quello che sono riuscita a sapere poco fa è che è una torta di ispirazione francese e che si prepara con la frutta. È una base di pastella densa con della frutta. Domani sera ne sapremo di più, adesso scappate tutti, lasciate suonare il telefono, ci vediamo domani. A te Carla, ciao!